Questo destino a me piace perché io ho letto un libro e mi è piaciuto così tanto che mi ha cambiato il carattere. Questo autore io lo collocherei fra Céline e Hemingway con un pizzico di Tolstoy e non scherzo per niente. È la strategia del destino e l'autore è Andrea Villani. Grazie, grazie.